Ciao, sono Giulio di Snowboard Academy, una piccola scuola di snowboard nelle Dolomiti, a Campitello di Fassa. Dunque, io un anno fa avevo un sacco di problemi col sito internet, perché non era bello, era lento e mi dava pochi contatti. Allora mi sono rivolto a Futuro Immagine, che ha creato una nuova fanpage, bella, divertente, con bei contenuti, personalizzata per il mio lavoro. E da allora il mio lavoro va molto meglio, anche grazie all'uso di Google AdWords, che costa un po', però ti porta dei contatti. Quindi volevo consigliare a tutti Futuro Immagine, perché è un grande professionista, e vi ringrazio e vi saluto dai Dolomiti. Ciao!